una partecipazione particolarmente ricca quella del concerto del primo maggio che quest'anno rinnova la sua tradizione a napoli con l'appuntamento in piazza del gesù rosario di cicco ed antonio d'ausilio presenteranno la manifestazione che ha scelto quattro parole d'ordine come crescita lavoro diritti e legalità un primo maggio che arriva in un momento particolarmente difficile per la crisi che ha toccato ormai livelli drammatici con le conseguenze che tutti vedono ogni giorno e per questo ci si attende un coinvolgimento ancora maggiore che faccia sentire anche a livello nazionale le istanze e le proposte offerte da luoghi di aggregazione sociale come questo innanzitutto per la prima volta il primo maggio insieme sindacati e comune oggi con la conferenza stampa il primo maggio in piazza tutti a piazza del gesù per ricordare che il diritto al lavoro il primo diritto sancito dalla costituzione repubblicana ma anche un grido di dolore molto forte che viene da napoli dal sud perché le politiche sul lavoro non ci soddisfano le politiche del rigore fino a se stesso non ci soddisfano c'è ancora poco investimento sul lavoro e sul sulla crescita e troppe persone ancora non hanno il lavoro troppe persone ce l'hanno precario troppi immigrati vivono in condizioni di schiavitù col caporalato troppo lavoro minorile in nero troppo lavori in nero troppe morti sul luogo di lavoro non mi sembra il primo diritto sancito dalla costituzione sembra un diritto dormiente quindi deve diventare diritto resistente diritto effettivo quindi è importante il primo maggio ringraziamo tutti gli artisti tantissimi che hanno dato la disponibilità a questa grande giornata di festa e di lotta di musica di spettacolo e di arte e poi voglio ricordare anche un'altra cosa importantissima al san carlo domenica l'abbiamo fortemente voluto mettere insieme cultura e lavoro il requiem di de simone con le poesie di per paolo pasolini un grande abbiamo voluto che i biglietti vadano tramite sindacati alle lavoratrici e lavoratori grazie grazie